Allora, Riccardo Pontremoli, protagonista della giornata, abbiamo qua la classifica in mano, primo Agustin Sabalua, poi abbiamo Pontremoli-Riccardo, 9 punti, Pontremoli-Beppe, 9 punti. Conosci l'altro Pontremoli? L'altro Pontremoli purtroppo oggi era a cappa O per un male all'orecchio, ma domani sarà sicuramente in gara nuovamente. Senti, quindi allora siete a pari punti, tu e tuo fratello, domani l'ultima giornata, in teoria due prove, di cui l'ultimo a punteggio doppio. Può succedere di tutto, però diciamo che siete i due più iniziati a giocarvi il titolo italiano. Come si sta? Bisognerà vedere, se riusciamo a fare due prove, vabbè, parte che è un'emozione bellissima, oggi è stato proprio molto divertente, eravamo sempre vicini tutti, condizioni eccezionali, sole, caldo, vento, bellissimo e poi essere là davanti è entusiasmante. Poi è bello perché anche all'inizio ero dietro, ma tanto, tanto, però se continui a stare concentrato con questo campo è bellissimo, il vento salta spesso, quindi si riesce a ragionare, a recuperare e nella seconda io ci ho creduto tutto il tempo e alla fine nella poppa sono riuscito a fare una bellissima poppa, camminando tanto, gli altri si sono un po' marcati, io ho goduto di un po' di libertà e non ci credevo. Quando sono arrivato all'incroce è stato un momento molto emozionante. Sì, decisamente è stata, senz'altro, la più bella prova tra le quattro seconda le disputate qui a Marina di Scarlino, molto molto emozionante, tu hai avuto il coraggio di farti la bolina tutta a sinistra nella seconda risalita del vento e a farti anche buona parte della poppa sempre a sinistra, ovvero sia a destra per te, a sinistra risalendo il vento. Quindi oltre che veloce è anche abbastanza coraggioso, ci credevi e ci hai venuto fino in fondo. Ecco il D1, appena il vento sale su 10-11 nodi diventa veramente esaltante, abbiamo visto i log 10 e mezzo, 11 nodi, 10, 9, 5, insomma si viaggiava alla stessa velocità del vento. Sì, bellissimo, quando c'è quest'area si riesce a planare sulle onde, anche se sono piccoline, quindi si riesce a fare un angolo bellissimo, a scendere bene, devo dire che tante ore sulla barca alla fine ti aiutano a avere un po' più di sensibilità, a riuscire a sfruttarle, a sfruttare tutte le onde, è divertente. Senti, al di là del campione italiano, tu oggi hai battuto Agustin Sabalua, che di solito nelle poppe rimonta tantissimo, invece no, siete riusciti, anzi tu hai recuperato più di lui, perché da quarto hai vinto la prova, lui era quarto e è arrivato terzo, quindi voglio dire che sei andato più veloce di Agustin anche in poppa. Sì, credo che siamo riusciti a guadagnare qualcosina di velocità, anche perché mio fratello è il più veloce di tutti, anche sul Garda andava come Agustin e quindi allenandomi con lui, alla fine sono migliorato anch'io, rispetto agli altri effettivamente in poppa, che secondo me è tanta anche la convinzione, se sai che comunque vai, o quantomeno che non vai più piano degli altri, sulla barca riesci a stare più calmo, più confidente nella tua possibilità e quindi alla fine riesci anche a prenderti buoni, scarsi. Senti, appunto, per concludere due parole sul D1 alla fine di una stagione, direi abbastanza esaltante, tu hai fatto, se non erro, tutte le tappe, come hai vissuto questa stagione? Per me questa stagione è stata bellissima, penso che la parentesi del Mondiale sul Lago di Garra è stata veramente bella, è un onore poter regattare con gente fortissima, si impara tantissimo come portano la barca, dopo il Mondiale abbiamo fatto poche uscite, però ci siamo studiati tutti i filmati per cercare di capire, di rubare qualche segreto e sicuramente c'è una parte, componente fisica che è molto difficile da portare avanti, da migliorare, però è bello, si continua a imparare, si continua a imparare ogni uscita, è bellissimo. La stagione è stata bella, varia, con condizioni diverse, credo che a parte Agostini che effettivamente ha una marcia in più in quasi tutte le condizioni, si sono viste tante persone che andavano bene nelle varie condizioni, quindi è bello, è divertente, è combattuto, c'è ancora uno spirito secondo me molto bello e spero che il prossimo anno rimanga così. Perfetto, ok, chiudiamo con un presto già di nuova domina e vediamo cosa succede domani. Sì, io volevo dedicare, oggi ho vinto una prova, è la prima volta che vinco una prova nei D1, la dedico al mio maestro Micio Corradi. Grazie. 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 Grazie.